Io me la prego qualcosa perché gliel'avevo detto all'inizio, lascioli perdere a me, guarda che io se ci sono bambini ti dico i bambini, dici i bambini che servono per fargli male, solo a questi. Se non ci sono i bambini c'è la morte, c'è la mamma. Non parlare che gliel'ammazzo, gliel'avevo trovato tanto di quell'azio che faccia la moglie che quando la guarda deve andare a me, la colpa mia. Ma poi giudici. Cioè, la prossima volta ti vedi i bambini pulati e se non fai, ti vedi il resto, ti faccio la macchina. Ma sei che qui c'è un po' che freddo. Tu, se sono uno bastardo indegno, se ti piggio e ti ammazzo. Avondete il figlio, il figlio e ti scanno. Ti giuro sull'anima di me, mamma tartararo. Cosa ti pareva che non aveva a che fare? Con loro siamo arrivati. Ti ammazzo. Ho capisci, ti spero. Tu e tutti quelli che frequentano tutti. Se ti piggio, ti scanno come un cammino. Cosa ti pare che stai avendo a che fare? Senti, spero. Domandare. I sordi. Domani portami i sordi che ti giuro sull'anima di me, mamma. Vieni a te, ma cittu. Ho capisci? Non mi riguarda a cazzo. E quando non fare morta a terra per me. Tu... E da vivi 500 mila euro. Non mi riguarda. Cosa sì. o